Inizio il video nella maniera più triste in assoluto, chiedendovi scusa perché ho fatto un casino Praticamente questo episodio io l'ho registrato, ma non l'ho registrato Nel senso che sì, le clip della telecamera, le clip dell'audio ci sono Avendo dei problemi con Game Capture avevo deciso di registrare questo episodio con SharePlay Che però non mi ha registrato le cose E io avrei dovuto controllare di tanto in tanto Purtroppo mi sono fidato della play e quindi ho fatto un casino, è colpa mia Perdonatemi perché è stato un episodio davvero al cardiopalma, ricchissimo di emozioni E voi purtroppo sarete costretti a viverlo ricco anche di bei gol E quello è il problema, perché tanto io ve li racconterò adesso Però non sarà mai la stessa cosa Vi chiedo umilmente scusa, vi chiedo massimo supporto Vi lascio al video, ve lo racconterò come posso insomma Lasciando il mio commento e inventandomi qualcosa al posto del gameplay Scusate ancora, ci vediamo prossimamente con un nuovo episodio E soprattutto domani, qui dobbiamo essere carichi, ho la finale del Road to Workup insieme a Menzo Qui sul mio canale alle 13.30 Ciao belli, allora vi è piaciuta moltissimo l'idea di chiamarvi all'inizio dell'episodio E quindi oggi continueremo, dovremo giocare queste quattro partite Che saranno Napoli, Genoa, Fiorentina e Bologna Mi hanno detto in disordine perché purtroppo l'audismo ogni tanto si fa sentire Ma cominciamo subito Allora, il primo che stiamo andando a chiamare si chiama Ivan Lui mi ha scritto chiamami che porto bene Quindi speriamo bene Servizio di segreteria telefonica Ah, e allora chiamiamo Francesco che ha un bel nome Bello fra Da Roma No Eh No Sì Eh lo so, grande Sono pronto Dai, sei prontissimo? Sei sicuro di essere pronto? Sì Cioè tu sei nato pronto? Sei nato pronto Grandissimo Di dove sei intanto, dici, dici Firenze Firenze, quindi sei maggiormente un grande Detto ciò io ti chiedo Napoli-Roma, ritorno delle semifinali di Coppa Italia All'andata 1-0 per la Roma Quanto finisce? Eh 2-0 Roma Speriamo bene, dai E poi Roma-Fiorentina 1-1 Roma-Genua 4-0 Roma E Bologna-Roma 2-1 Bologna Az Beh, speriamo Speriamo di no Cioè nel senso Comunque, pronostico, è giusto È giusto, è un pronostico È importante Pronto? Giacomino Ehi Di dove sei, Giacomino? Sì, bravo Infatti, si sentiva Sei in grande Eh, occhio però Che ti trovi poi il numero Sui bagni dei portati a Roma Con scritto bocchini 5 euro Allora Io Direi un bel 1-1 Così passi 2 Mi piace Passo io Però è Napoli Roma-Fiorentina Sì Ma un bel 2-0 Se il caso Potrebbe stare Dai Roma-Genua Ma 2-1 secondo me Con un gol Un po' sofferta Un po' partito Ok Dai Cioè la vincevamo al novantesimo Con Bashoi Come stai Magari 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 Sì Come nel resto Pure nella serie Con mezzo Esattamente Esattamente Grande E poi Bologna Roma Ah, Bologna Roma Scello Diciamo Grazie Buono Adesso Anche perché Comunque Io voglio mantenere Questa tradizione No Anche oggi Abbiamo una ragazza Che ci ha lasciato il numero Si chiama Desiree Perché poi Desiree come cazzo si Legge Desiree penso Pronto Buonasera Signorina Buonasera Come va Beh Aspetta Sei Tyler Tyler Sì 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 Tyler Sono Tyler Di nome Di cognome Strikes Faccio Prank No Oh no Ti crede Oddio Sono vede Credo di esserlo Almeno La voce è un po' Diversa Anche l'accento Forse Esatto Ecco Soprattutto Grande Allora Senti una cosa Facciamo così Tu te ne intendi di calcio No Fantastico Però almeno tu lo ammetti Perché l'ultima volta L'ultima volta Aveva detto Sì sì io capisco di calcio Poi ha fatto dei pronostici Abbastanza Allora Ma se io ti chiedo Quanto finisce Napoli-Roma No No Guarda Ti prende in giro Non me ne intendo proprio Non è capito nulla Ah quindi mi fa piacere Che tu abbia capito Comunque lo scopo Di lasciarmi il numero E poi farti chiamare Negli episodi Vabbè Sono i rischi del mestiere Dopotutto Direi che comunque I due pronostici Ce li abbiamo E quindi partiamo Con l'episodio 365 giorni dopo Quella semifinale In cui la Roma Beffò il Napoli Qui al San Paolo Dopo lo 0-0 Dell'andata Il 3-2 Con le firme di Edin Dzeko E Kolarov Insomma I due protagonisti Meno attesi Di quel periodo di stagione Ma che poi si rivelarono Fondamentali per il finale Appunto di stagione Il Napoli si era portato In vantaggio A 10 dalla fine Poi la vinse la Roma Per il 3-2 Si qualificò in finale Oggi vuole la rivincita Tutto il popolo campano Tutto il popolo azzurro Ma di fronte C'è una squadra Ancora molto arrabbiata Per l'eliminazione In Champions League Che vuole comunque Arrivare fino in fondo Sia in campionato Che in Coppa Italia E quindi una buona sera A tutti Da un gremito San Paolo di Napoli E il 9 aprile E il ritorno Della semifinale Di Coppa Italia Roma padrona del match Mares In verticale Per Mertens Che riesce ad andare via Con una magia Su Albiola Attenzione a Mertens Che è fuggito Poi mette il cross Per Mares Che si tuffa Ancora Mertens Dentro Pellegrini La gira in porta Magia Al ventunesimo Lorenzo Pellegrini E avanti la Roma Al San Paolo Voleva giocarla Questa partita Il centrocampista Ex Sassuolo Lo ha chiesto In settimana a Marconi È entrato al posto Di De Rossi Dal primo minuto E ha fatto un gol Mica brutto Palla in porta Roma avanti La sterzata Il tocco ancora Su Pellegrini Che poi allarga In direzione Abdoulaye Nura Da lì pronto al cross Ma orbito Verso Schick La torre Ancora Mertens Due volte Mertens Che esulta il giusto Ma fa 2 a 0 Per la Roma Il gol dell'ex Dries Mertens Raddoppio alla mezz'ora In realtà il pugnetto C'è per Mertens Che però giustamente Si contiene Napoli 0 E Roma 2 Lo ha voluto Destro di controbalzo Palo goal È Roma che mette A questo punto della partita Dopo mezz'ora In cui praticamente Ha giocato A un senso unico Insomma si è giocato A una sola porta Un piede e mezzo In finale di Coppa Italia Un as Barreca Barreca gli porta via Il pallone con sicurezza E poi vuole anche Farsi servire Dal Sharawi Ecco il tocco di ritorno Per l'ex Torino Corre Antonio Barreca Sulla corsia di sinistra Può metterla al centro Fa tutto da solo Poi cerca la porta Eccolo qui Palo sicuramente Una netta complicità Per il portiere del Napoli Che sicuramente Non è stato al 100% Così come il Napoli Partita senza storia Per la verità Tre fischi La Roma è In finale di Coppa Italia Non è servito Praticamente il ritorno Per confermarlo Perché il Napoli Non si è mai opposto Non tanto penso Per volere personale Quanto per capacità Clamorose in più Della Roma Che ha battuto il Napoli Tra l'altro anche il campionato Per 4-0 Come detto nel primo tempo Roma in finale Adesso vedremo anche Chi incontreremo Nell'ultimo atto Di questa competizione Che poteva essere Un primo Secondo atto Verso il triplete Che non lo sarà Perché come sappiamo Siamo usciti purtroppo In malo modo Contro un grande Bayern Monaco Gli ottavi di Champions League Quindi sicuramente Non sarà triplete E' successo di tutto Intanto E' successo di tutto Tra Juve e Inter Perché la Juve Aveva vinto la gara D'andata per 2-1 L'Inter ha ribaltato Clamorosamente E quindi sarà Roma-Inter La finale di Coppa Italia In maniera clamorosa Perché tutti si aspettavano Un Roma-Juve Così come fu l'anno scorso Così come è stato In Supercoppa Italiana Così come è Anche in campionato Perché a 7 giornate Dal termine La Roma conduce A 75 punti La classifica Ma la Juve E' incollata a 74 Sarebbe stata Un'infinita sfida Tra Roma e Juventus Sarà Roma-Inter La finale di Coppa Italia Stile vecchi tempi Come qualche anno fa Adesso Però andiamo avanti E pensiamo a Roma-Fiorentina Quindi vuole partire La Wink-Cursawa Vuole anche scambiare con Schick Che lo fa viaggiare Attenzione al 33 Che prende campo Arriva fino in fondo Resiste Attenzione ancora Cursawa Mette la palla in porta La Roma Si aggrappa Il francese Per continuare a vincere Verso la quindicesima di fila 1-0 Se la porta avanti Con la testa La Wink-Cursawa Resiste al ritorno Di un avversario E poi calcia di collo Pieno sotto l'incrocio Dei pali opposto Roma-1 Fiorentina-0 Come detto Sarebbero 15 di fila Perché i giallorossi Proprio all'andata con la Fiorentina Vanno perso l'ultima partita E poi solo vittorie In campionato Non calcia Preferisce all'arriata in gioco Su Mugnain Florenzi lo contiene Poi non riesce a ripartire Insiste la Fiorentina Mugnain In fila per Kalinic Che ha sterzato bene Dette dentro Pallo della Fiorentina E poi arriva il gol Dell'1-1 Ha segnato Tomovic Ha segnato il capitano Viola Fareggio Meritato Per il secondo tempo Della Fiorentina Una Roma che si è adagiata Un po' troppo presto Ma adesso ci sono altri 10 minuti Adesso la Roma deve riuscire A vincere questa partita Con Perotti Naingolans E fuori anche Pellini Che può pensare al destro C'è Florenzi Che da solo è una prateria Forse con un po' di ritardo Pensa al destro Florenzi calcia Mitreff vola Come un gatto E poi vede tu In fallo laterale 30 secondi al novantesimo Ancora la Roma in attacco Con Perotti Poi a sinistra Per Kurzawa C'è Baccio che si stacca Ma sbaglia Era chiaramente Mertens E non Kurzawa E se visto il sinistro Differente Il tempo è finito La Roma si ferma Da Firenze A Firenze È incredibile Il calcio è strano Dopo 14 vittorie consecutive Successive Successive a quella sconfitta Per 2 a 0 L'Artemio Franchi La Roma affronta di nuovo in casa La Fiorentina Cioè affronta di nuovo la Fiorentina In casa questa volta E viene beffata A 10 dalla fine Non basta il gol di Kurzawa Pareggia Tomovic E poi Mitreff Fa un miracolo su Florenzi 1 a 1 E adesso dobbiamo Sperare che la Juventus Non abbia vinto Ma comunque vada Queste ultime 8 partite Saranno di fuoco E invece vince la Juventus Che vuole a 77 punti La Roma ha 6 giornate Per ripassare in betta Momentaneamente A meno uno dei bianconeri De Rossi Roma che continua con l'assedio Perotti Per Bashoi Verticale da Mertens Al limite Prova Giro Driss Mertens La Roma riparte dal Belga 1 a 0 Al quarto d'ora Forza così Porta ancora Molto bene Under Dentro per Bashoi Rimpallo La palla arriva in qualche modo Poi Under Piega le mani a Perin Roma 2 0 a 0 Bashoi Sterza bene Salta l'uomo Si è infilato Mertens Ignorato Poi Bashoi Tentenna un po' Va alla fine da Mertens Che infila molto bene Per Under Fino in fondo 3 a 0 Roma Cengiz Under Firma la doppietta E la Roma praticamente archivia Roma Genoa Nel primo tempo Così come volevamo Poi larga sulla destra Aliresa passa La mette dentro E il gol del Genoa Il gol del Genoa Ha segnato Centurion Qualcosa da rivedere E qui 3 a 1 Keita Da Mertens C'è anche Under Lanciato Grande palla 2 per 2 con Perin Under La mette dentro Per la terza volta Nella sua partita Fa 4 a 1 E si porterà il pallone a casa Poker della Roma Palla su Valleco La Roma Non vuole assolutamente Allontanare il pallone E qui esce Alla grandissima Con lo scambio Insomma Tra Valleco e Florenzi Poi la palla per De Rossi Da questi a Basciuai Che si appoggia Su Pellegrini Poi Cursa Quasi Ha aperto il Genoa Ma che azione della Roma Palla dentro Per Basciuai Che vuole andare Ha visto anche Mertens Lo serve Inizia Mertens Defilatissimo Poi ancora fuori Da Valleco e Florenzi Che resiste Lascia il pallone a De Rossi Con il destro De Rossi 5 a 1 Che gol della Roma Contropiede Pazzesco Pazzesco 5 a 1 E qui lo voglio rivedere Lo voglio rivedere Non so da dove partirà Però lo voglio rivedere Sono contentissimo Anche per il gol di Daniele E qui ci vanno a vedere La parte finale dell'azione Con Basciuai Che staggiamente Era un accalciato Appoggiato Per la corrente De Rossi Con Mertens Che si appoggia Con il gol del capitano Forse uno degli ultimi In carriera O meglio Forse l'ultimo Sicuramente uno degli ultimi Il terzo in campionato Pellegrini Poi Basciuai Lascia anche a Gerson Possibilità Per Gerson Che non sbaglia Segna forse Il primo gol in campionato La Roma chiude il primo set E 6 a 1 E 6 a 1 Per una Roma Che fino alla fine Giustamente ha giocato Eccolo qui Il triplice fischio La Roma Travolge il Genoa 6 a 1 E torna a vincere Con un der che si porta Il pallone a casa Con De Rossi Che si prende la Roma Sulle spalle Con Mertens Che segna un altro gol Stupendo E col primo gol in serie A Di Gerson Insomma Una Roma che Torna la vittoria Adesso bisognerà vincere Anche le altre 5 Con la Juve Che ovviamente Ha vinto di nuovo Quindi Non possiamo sbagliare Non possiamo sbagliare Supportate al massimo Questo finale di stagione Ragazzi Perché sarà veramente tosto Dentro per destro Taider Infila Nagy Poi destro Può calciare Destro Con il sinistro Fa 1 a 0 Per il Bologna Una Roma Bruttina Devo dire È sotto All'edalare contro il Bologna Un der taglia Verso il suo sinistro Prova a calciare Ma non riesce a farlo partire Poi la palla dentro Schick Schick la gira Skorupski come può E' andato dentro Florenzi L'ha visto Mertens Che prova a farla passare Grande palla Florenzi Skorupski Con un miracolo Un der Bashoi Andato un der Bashoi salta l'uomo Fino in fondo Bashoi con le cattive Calcia Con le cattive Calcia Ha spaccato la porta Di potenza A 18 dal novantesimo Alla Batistuta Fa 1 a 1 Siamo ancora vivi Bashoi La gira per Schick Chiuso Schick Non ne ha più Deve insistere però Un der Ancora da Schick Con il momento di Bashoi Servito lì Attenzione ancora Bashoi Se la vuole portare sul sinistro E qui non se l'è lavorata benissimo Altro rinvio 13 al novantesimo Palla verso Mertens Che la mette giù E poi sui piedi di Nainggolan Ancora Roma che attacca con Ninja Se è mosso un der Se è mosso un der Se è mosso un der In aria Un der Palla in porta 2 a 1 Sotto le gambe di Skorupski La Romana ribalta Nel giro di pochissimi minuti Col gol del Turco Ragazzi la partita è nostra C'è Schick ancora C'è a destra un der Palla buona Per un der Skorupski Non è finita con Mertens Che la tiene Altro cross Un der Un der Che entra dalla panchina E cambia la partita Così come Bashoi 3 a 1 Ha vinto la Roma al Dallara Al termine di una partita Davvero Emozionante Ricca di emozioni E molto sofferta Ma la Roma Ha ancora qualcosa Da dire a questo campionato Ha ancora qualcosa Da dire alla Juventus Non vinciamo soltanto Con i 6 a 1 Vinciamo soprattutto Queste partite qui sofferte Ce la meritiamo noi Ce lo meritiamo noi Questo scudetto Adesso guardiamo la classifica Sicuramente dopo una vittoria Del genere Siamo più forti Dopo una vittoria del genere Siamo ancora più consapevoli Dei nostri mezzi E come ho detto in telecronaca Di quanto La Roma Si merita Questo scudetto Perché la Juventus Si è fermata La Juventus Ha pareggiato evidentemente E attenzione È un campionato Che ha ancora tantissimo Da dirci Intanto votiamoci Questa classifica Alla fine di un episodio Che è stato lungo Tortuoso E sofferto Abbiamo visto l'inferno Siamo tornati in paradiso Ma non ci siamo ancora Non abbiamo ancora Preso casa L'abbiamo soltanto vista Altre 4 partite E poi potremo festeggiare Forza Roma Alla fine di un episodio